Oggi vi porto a Scilla, in Calabria. Scilla, con il suo panorama morzafiato, il suo ricco patrimonio storico e le sue tradizioni culinarie, rappresenta una destinazione turistica unica e affascinante. Chianalea, il borgo marinaro di Scilla, è un vero gioiello. Le sue casette colorate si affacciano direttamente sul mare, creando un'atmosfera suggestiva e romantica. I caratteristici vicoli, i ristorantini tipici e le botteghe artigiane rendono Chianalea un luogo ideale per passeggiare e immergersi nella cultura locale. La spiaggia di Scilla è una delle più belle della Calabria. Le sue acque cristalline rendono un luogo ideale per rilassarsi e godersi il sole. La spiaggia è inoltre attrezzata con stabilimenti balneari, bar e ristoranti. Scilla di notte dopo il tramonto assume un'atmosfera davvero magica. Le luci del borgo si riflettono sul mare, creando un suggestivo gioco di luci e ombre. Il rumore delle onde che si infrangono sugli scogli rendono l'atmosfera ancora più romantica. Si può cenare in un ristorante o pizzeria sul mare. La maggior parte dei ristoranti di Scilla ha una terrazza sul mare, dove potrai gustare il cibo mentre ammiri il panorama notturno. Non dimenticare la macchina fotografica per immortalare i suggestivi paesaggi notturni. Spero che questo video ti sia piaciuto. Iscriviti in modo da poter creare altri contenuti come questi. Se vuoi contattami via email per promuovere il tuo paese o la tua attività. Grazie mille e al prossimo video. Grazie mille e al prossimo video.